Buongiorno a tutti e benvenuti a Burano, famosa per i suoi uccellini di ricerca in colori brillanti. Burano è la casa di grandi artisti come Baldassare Gallupi e molti magazzini internazionali include Burano, among the top 10 most colorful cities in the world. And don't forget to subscribe to my travel channel!